Roma, caso Belotti, critiche sui anche dai tifosi del Torino Roma silenzio social di Andrea Belotti dopo il pareggio contro il Torino e il penalty sbagliato a due minuti dalla fine della partita Per sua fortuna un errore a cui ha rimediato Matic per un pareggio comunque deludente I fischi nonostante le sue scuse alla curva a sud sono arrivati anche a lui Ma non solo dai romanisti, perché il giorno dopo il match il suo profilo Instagram è stato sommerso da messaggi dei tifosi Granata Centinaia di post critici sotto la sua ultima foto pubblicata lo scorso 31 ottobre Le critiche dei tifosi Granata sono tra i temi principali dei tanti commenti di contestazione nei suoi confronti Inevitabilmente il mancato rinnovo con il Torino e la decisione di andare alla Roma Poi il mancato saluto al settore ospiti Granata prima e dopo la partita dell'Olimpico Infine l'avere voluto battere il calcio di rigore a tutti i costi contro la sua ex squadra Oltre a qualche vergognoso post di insulti e volgarità da condannare Sono questi i punti criticati dai tifosi del Torino Che hanno evidenziato tutto il loro malumore per le scelte di Belotti Il tuo errore dal dischetto per noi vale uno scudetto Uno dei tanti messaggi dei tifosi del Toro I post di Rui Patricio e Zalewski Silenzio social di Belotti che ha preferito evitare di guardare il suo profilo Per concentrarsi sulla famiglia in questi giorni di vacanza Messaggo invece da Rui Patricio Non è stato il modo migliore per chiudere il 2022 Ma quando torneremo vinceremo tante partite insieme Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto incondizionato Un post anche da Zalewski Sappiamo tutti che dobbiamo dare di più e vogliamo farlo Per Roma e per i romanisti che non ci hanno mai lasciati soli Soprattutto nei momenti più buoi Grazie a tutti voi Virgola